ragazzi ciao siamo qua per invitarvi domenica 16 presso il Falcineto Park dalle ore 19.30 in poi vi aspetteremo là organizzeremo una bellissima festa latinoamericana di beneficenza per amatrice e le altre zone terremotate ognuno porterà qualcosa da mangiare o da bere da condividere con gli altri e ognuno metterà 5 euro tutto il ricavato di questa serata verrà devoluto in beneficenza saremo noi Kiko Ritmo Staff assieme a Adrian DJ, Robby DJ La Nave e tanti altri ospiti che saranno con noi per fare festa e saranno presenti anche i ragazzi di amatrice quindi mi raccomando non mancate ciao ragazzi vi aspettiamo ciao ragazzi sono Marco, io Valentino, Laura, Pagno siamo nel gruppo Kiko Ritmo volevo invitarvi a una serata di domenica 16 ottobre a Falcineto Park sarà una serata di beneficenza in collaborazione con l'associazione Il Sogno per i terremotati di amatrice quindi noi ci metteremo del nostro con dei nostri amici DJ tanta musica ma abbiamo bisogno anche di voi vi aspettiamo quindi domenica sera alle ore 20 portate da mangiare e da bere e noi portiamo tanto divertimento e allegria quindi vi aspettiamo! domenica 16 ottobre al Falcineto Park una grande serata latino-americana totalmente devoluta in beneficenza quindi partecipate in numerosi a questa grandissima manifestazione partecipate tutti! dove? a Falcineto a Falcineto ciao ragazzi sono Robi DJ La Nave volevo invitarvi tutti domenica 16 ottobre al Falcineto Park dalle 19.30 per una festa di beneficenza che abbiamo organizzato per amatrice delle zone terremotate quindi niente ci si ritrova si mangiano tutti insieme io non porto qualcosa poi si balla tanta musica tanta gente e forza che faremo una festa stupenda come sempre vi aspettiamo! Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! vi parlo di adriano e voglio dire a tutti voi che sono invitati il domenica 16 ottobre al Falcineto Park alle 7.30 dove faremo una grande festa di beneficenza dedicata a amatrice e a tutte le persone del terremoto per favore non facciamli che l'aiuto di tutti voi sarà molto importante vi spero ciao! ciao a tutti sono Marco siamo qui ad amatrice e vi ringrazio per aver organizzato questo evento a Fano con l'associazione Sogno domenica 16 alle ore 20 nella scuola Kiko Ritmo Falcineto Park e niente vi aspettiamo numerosi lui e Claudio Claudio Grassi vi chiamo e ringrazio per tutto questo una mano per ricominciare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti